Sono ore cruciali queste per il Comune di Montesilvano, domani approderà in consiglio il bilancio, approvazione del bilancio preventivo. Assessore Cozzi, qual è la situazione? Ci sono i numeri in maggioranza? Guardi, al momento rispetto al bilancio non vedo particolari nervosismi. È evidente che quello è un momento, non voglio nascondermi, dove chiunque vuole togliersi qualche sassolino e approfitta di questo strumento per porli sul tavolo. Abbiamo ascoltato sempre tutti, lo faremo anche questa volta. Se i motivi risiedono all'interno del bilancio, la soluzione sarà trovata assolutamente come sempre fatto, perché questa amministrazione è stata sempre con le orecchie attente e con la volontà di risolvere i problemi della città. Perché non dobbiamo dimenticarci che di quello noi ci occupiamo. Se poi ci sono altre ragioni, credo che la sede non sia quella della riunione di maggioranza sul bilancio, ma sono temi più politici.